guadagnano davvero tutti vediamo un po insieme questa catena produzione distribuzione consumatore produzione tutti sappiamo che in arabo si dice in tec l'impresa che produce ha un profitto 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 il prezzo che si distribuisce o un profitto la città che si tratta la città o che si tratta la città perché quando si tratta la città si tratta la città la città si tratta la città il consumatore che siamo in qualità di consumatore ma siamo i nostri compriamo il bene per uscire l'E per cosa? per soddisfare i nostri bisogni per l'Abbè si tratta la città per l'Abbè non ed è un profitto ogni soggetto con le E quindi il soggetto ci ho fatto band che ogni soggetto in questa catena 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 ha l'obiettivo di ottenere un guadagno profitto, non sempre una città ima costituito da denaro. Ogni soggetto in questa catena ha l'obiettivo di ottenere, l'obiettivo di ottenere, l'adfo inno jihassul ala i, un guadagno, ma che sub, guadagno profitto, non sempre, costituito, mish dai man becun, mucawan min i da denaro, da soldi. Regola, il regola è la cosa della domanda e dell'offerta. Facciamo un esempio, siamo al Cairo, c'è un solo negozio che vende cellulari S8. Dove siamo? Siamo al Cairo. Quanti negozi vendono il cellulare S8? Uno solo. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ci sono solo 100 cellulari a 500 pound a cellulare. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. ma c'è un uomo che vende il cellulare S8. che cosa succede allora in questo caso in questo caso ci sono persone che vogliono assolutamente avere il cellulare e sono pronte a pagare anche più del prezzo normale del prezzo prestabilito ora ci sono persone che vogliono imparare il cellulare e sono stati che vogliono aiutare il cellulare il cellulare il cellulare il cellulare il cellulare il cellulare 500 quali quali il cellulare a ce che si sta da o che c'è la delle screare quali gli Celelli ci hanno fatto quando si c'è qualcosa più di一 pari del cellulare che vediamo il cellulare il cellulare il cellulare il cellulare qui un'è In questo caso, il commerciante aumenterà, il verbo aumentare per essere coniugato al futuro, il verbo aumentare, per essere coniugato al futuro, il prezzo del cellulare. Il verbo aumentare il cellulare, il verbo aumentare il cellulare, il verbo aumentare il cellulare. Il verbo aumentare il cellulare, il verbo aumentare il cellulare. Il verbo aumentare il cellulare. Il verbo aumentare il cellulare, il verbo aumentare il cellulare. Il verbo aumentare il cellulare, il verbo aumentare il cellulare. Il verbo aumentare il cellulare. Il verbo aumentare il cellulare. ma ci sono 100 persone che vogliono comprare questo cellulare 100 persone 100 persone o 1000 cellulare chi è più? 1000 o 100? 1000 o 100? 1000 o 100? 1000 questo è l'offerta l'offerta l'arbre 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 chi è più? l'arbre l'arbre la domanda l'arbre 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 il nuovo modello s9 come vediamo ci sono più offerte che domande ci sono troppi cellulari s8 sul mercato e non c'è il mobile che tira s8 dove siamo? siamo alle bogele quanti negozi vendono il cellulare s8? 10 allora sul 10 mhallat ci sono 10 cellulare scusatemi 1000 1000 1000 cellulare 1000 1000 1000 1000 quante persone vogliono comprare s8? solamente poco tante persone in questo caso l'offerta è maggiore della domanda come vediamo ci sono più offerte che domande cioè ci sono troppi cellulari s8 sul mercato cosa succede allora? ci sono lb ci sono poche persone che vogliono avere il cellulare s8 e aspettano il nuovo modello s9 in questo caso i commercianti abbasseranno i prezzi dei cellulari s8 fino a 450 400 400 perché vogliono vendere subito i cellulari in questo caso abbasseranno il verbo abbassare quindi ci sono i 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 e il prezzo e ma che annullo è abito al cairo dove abito al cairo e voglio una bottiglia di acqua minerale che cosa voglio fare voglio comprare una bottiglia di acqua minerale la bottiglia un valore economico di 5 lire egiziane quanto costa la bottiglia 5 ancora teni abito al cairo e voglio una bottiglia di acqua minerale la bottiglia ha un valore economico di 5 lire egiziane imcitiamo l'ambio tube potassium è p welcomed Ramona delboro alla bottiglia eraienna si trattava in posizione di acqua became levato a 200 اسmere che 300 uc di acqua minerale Si vuole di mezzo e le mezzo di tobiere Sv. Si vuole una misura di tobiere A e A e V. Il valore di 100 bottiglie è quasi 0 perché non sono contro il 100 bottiglie A il cittadino A e per il cittadino avv. 0 Le? Le ragazzi non si non si sa fare il cittadino il passato al passato all'inferno di disponibilizzare maggiore il passato e metà di rispettare azzare 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 il passato azzare a 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 l logo di AT a a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti.